Solo tre comuni su 305 risultano avere il piano emergenza aggiornato, coerente con le disposizioni di legge nazionali e con le nuove linee guida approvate dalla Regione nel 2015 e trasmesso alla Protezione Civile Regionale. Il dato scaturisce da un dossier elaborato dal Movimento 5 Stelle presentato oggi nel corso di una conferenza a stampa che analizza in profondità la situazione dei piani di emergenza comunali. Noi con l'iniziativa di oggi intendiamo stare veramente con il fiato sul collo a governatore della Regione, ai sindaci e dei comuni per sollecitare l'approvazione o meglio l'aggiornamento dei piani di emergenza secondo quelle che sono le ultime norme, cioè del 2012 e una delibera di giunta del 2015. È fondamentale per attuare un'azione di prevenzione e previsione di gestione efficace delle emergenze e del soccorso. Intanto con degli atti e delle mozioni da depositare in tutti i comuni dove abbiamo consiglieri comunali e in Regione per verificare insomma quali sono i tempi di aggiornamento dei piani comunali e per verificare che la Regione Abruzzo stia controllando sostanzialmente quello che fanno i comuni. E poi delle lettere di invito è una sorta di promemoria a sindaci e a prefetti per sollecitarli, diciamo così, da un lato all'approvazione del piano e dall'altro alla vigilanza sull'approvazione e l'efficacia dei piani.